Benvenuti su Ultimora Gossip TV. Secondo indiscrezioni di vario genere, Chiara Ferragni sembrerebbe vivere un momento di grande sconforto a causa dello scandalo che la vede protagonista in una vicenda di beneficenza falsa. Ha lasciato a bocca aperta, scioccando i suoi numerosi fan, una notizia emersa poco fa. Ma prima di iniziare, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche per essere costantemente aggiornato. È un gesto semplice, ma per noi è significativo. Grazie. Ormai da una settimana, Chiara Ferragni ha optato per una sospensione temporanea dalle piattaforme social, evitando di condividere nuovi contenuti sui suoi canali principali, fatta eccezione per il suo dibattuto video di scuse. Notizie.it ha diffuso la notizia che Mariella Milani, ex caporedattore della direzione del TG2 e esperta di moda, ha condiviso la sua opinione, affermando che Chiara Ferragni è distrutta. Ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo fa bene a stare zitta. Solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d'immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del Pandoro è finita anche sulla BBC e sul New York Post, perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste. Cosa ne pensate? Siete dalla parte di Chiara Ferragni? Se desideri farlo, ti preghiamo di mettere un mi piace e lasciare un commento con le tue opinioni. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornato.